Luca Morisi è indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. Solo pochi giorni fa Morisi aveva lasciato il suo incarico alla guida della bestia, la macchina che gestisce i canali social del leader della Lega, Matteo Salvini. L'indagine su Morisi parte da un'inchiesta avviata dopo la denuncia dei carabinieri che hanno perquisito la sua cascina a Belfiore, in provincia di Verona. Lì, spiega il Corriere della Sera, sono state trovate alcune dosi di droga. I fatti risalgono a metà agosto quando tre giovani vengono fermati e nella loro auto viene trovato un flacone di droga liquida. Secondo quanto riportato, sarebbero stati proprio loro ad accusare Morisi di avergliela ceduta. L'ipotesi però è che Morisi fosse già sotto osservazione, il controllo non sarebbe stato proprio casuale. In mattinata si è scusato con tutti a partire da Matteo Salvini per quanto avvenuto. Non ho commesso alcun reato, ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo. Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo. Il messaggio dell'ex guru della Lega prosegue e si chiude così. E' un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro contando sul sostegno e sull'affetto delle persone che mi sono più vicine.